Siamo molto delusi. Sono queste le parole a caldo a fine sentenza del fratello di Benedetta Vitali, una delle vittime della lanterna azzurra di Corinaldo. I sei componenti della cosiddetta banda dello spray sono stati condannati a pene comprese tra i 10 e i 12 anni, con uno sconto significativo rispetto alle iniziali richieste dei PM Paolo Gubinelli e Valentina Bavai. Le pene tengono conto della riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato, ma non includono l'associazione a delinquere, non riconosciuta dal GUP. I giovani modenesi, tutti presenti al momento della sentenza, sono stati ritenuti responsabili della strage alla lanterna azzurra, dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 fu spruzzata una sostanza urticante per rubare catenine e oggetti preziosi ai giovanissimi che aspettavano le performance musicali del trapper Sfere Basta. Nella calca che si generò morirono 5 adolescenti e una giovane mamma. La sentenza è stata emessa dal GUP del Tribunale di Ancona Paola Moscaroni al termine della settima udienza del processo che si è svolto con rito abbreviato e a porte chiuse con una settantina di parti civili in giudizio. La Procura della Repubblica prende atto della decisione della giudice e si riserva di valutare le motivazioni della sentenza quando saranno depositate. Mi sembra doveroso in questa sede sottolineare come grazie all'impegno degli inquirenti e degli investigatori ci sia stata una celere risposta da parte delle istituzioni dello Stato. In aula stamattina anche altri familiari delle vittime tra cui il marito di Eleonora, la giovane donna, rimasta schiacciata nella calca. Quello che riesco a spiegare sono piccoli però che giustizia è stata fatta a metà? Spero che la seconda parte del processo sia la più importante perché, lo dicevo prima, quelli che hanno riaperto quel posto dovevano stare chiusi. Era un magazzino agricolo, hanno fatto entrare un sacco di minorenni in una stalla, in poche parole, hanno mandato c'è la morte. Presenti alla sentenza anche la madre di Daniele Pongetti e il padre di Mattia Orlandi. I nostri figli non ce li daranno più nessuno quindi cosa mi aspetto? Non lo so, mi aspetto che... non dico che deve essere esemplare perché quello che hanno commesso è grave quindi non è che perché l'hanno commesso Corinaldo deve diventare esemplare. È una cosa che non si può fare, è inammissibile. Noi abbiamo perso dei figli e una giovane mamma quindi il problema ci hanno rovinato la vita. Non si può speculare sulla vita degli altri, è una cosa assurda. Per quanto riguarda i familiari di Benedetta Vitali erano presenti oltre il fratello anche il padre e un parente. Ci aspettavamo una sentenza più dura diciamo a mio avviso non solo per quello che è successo a Corinaldo ma perché qui c'è anche una recidiva loro sono soliti fare queste cose quindi la pena secondo me doveva comprendere tanti reati che loro hanno commesso. speriamo perlomeno che almeno questi anni che gli hanno dato li facciano ma abbiamo insomma le nostre riserve e speriamo il prima possibile che parta l'altro processo che chiuso questo ci si possa concentrare sull'altro che per noi è molto più importante. Penso che un po' di amarezza e di delusione sia normale nel senso che comunque è l'unica cosa che mi resta da fare per mia sorella e chiedere giustizia e dal momento che non danno una pena diciamo come quella che mi aspettavo è normale che sono un po' amareggiato però c'è anche da dire che se perdo fiducia nella giustizia io come faccio ad andare avanti?